Bentornato a Roberto Rigacci di pasticceria Rigacci 48, già presente nelle altre edizioni. Che cos'è che le piace cucinare, preparare, qual è il lievitato preferito nella preparazione? Quest'anno sicuramente è un'innovazione 2018, Clementino e cioccolato bianco, da un candito Clementino intero, da una cremosità particolare quando lo spicchio di Clementino si incontra con il cioccolato bianco, una morbidezza e un'eleganza al di là delle aspettative. Il pubblico invece cosa sta apprezzando in particolar modo? Ha avuto un grande riscontro con piacere di clienti già venuti gli anni scorsi, top seller nostro è Le Noci, un grande incontro sull'albicocca e cioccolato al latte, però che dire delle novità, Clementino, Pistacchio e Gianduia per festeggiare i nostri 70 anni di attività hanno avuto un bell'incontro nel pubblico milanese. Complimenti per i suoi prodotti, l'aspettiamo l'anno prossimo con altre novità e buone feste. Sicuramente abbiamo tanti tipi di panettoni, sempre di più, forse troppi però per accontentare tutte le esigenze dei nostri clienti. Grazie. Grazie.